Gli alimenti, 450 euro al mese, quando stava con me stava a dieta, tutto mo deve mangiare staspro Siamo noi le nuvole, le frasi delle lettere Lei deve declinare le sue generalità, è semplice, io generalitavo, tu generalitavi, egli generalitavo Sono arrivato a 65 anni e sono ancora singolo, e non dico single perché l'inglese mi sta andando per